L'idea era quella di ottimizzare le risorse dell'ente per creare più servizi e così nel piano studiato dal sindaco di Chieti tutti gli immobili inutilizzati erano stati trasformati in servizi per la cittadinanza. In alcuni casi anche con una lunga trafila dovuta alla richiesta di gestione allo Stato di edifici di loro proprietà. Era iniziato il progetto di riqualificazione. Tra questi compare anche la caserma buciante, quella che secondo progettisti e giunta comunale aveva l'ambizione più grande. 10.000 metri quadri trasformati in cittadella della cultura. Oggi sorgono invece le prime polemiche, mancano 6.000 metri quadri. Nel momento in cui si è aperto uno scenario straordinario, quello del riutilizzo degli immobili dismesse nella nostra città, molte istituzioni, molti enti, molte associazioni hanno immaginato quello che potesse essere il futuro di quegli impianti. Oggi noi abbiamo a disposizione 10.000 metri nell'ex caserma buciante, cioè nell'ospedale militare, e lì dobbiamo trovare lo spazio per far sì che cresca un nuovo polo attrattivo per la cultura. Su questo noi siamo pronti a fare la nostra parte con le procedure del comune che saranno necessarie. Io quello che ho chiesto però è di avere una visione ampia, cioè non oggi correre in qualche modo soltanto verso l'occupazione di quei posti, di quegli spazi, ma avere una visione che preveda l'incastronamento di questa opportunità in un progetto più ampio che quello della città del futuro. Ridurre gli spazi di ogni pertinenza e non creare già ostacoli ad un'opera non realizzata. Così risponde il sindaco di Primio che ricorda che a disposizione del comune ci sono fondi per milioni di euro, fondi che prevedono la realizzazione al suo interno di una biblioteca, un museo, una pinacoteca e gli archivi di Stato. Oggi abbiamo a disposizione circa 10 milioni di euro che vengono messi dallo Stato, dalla Regione e dagli enti. Quindi quello con cui bisogna fare i conti per evitare che si facciano buchi nell'acqua o si realizzino opere che poi non sono finanziabili e fare i conti su progetti esecutivi. Al momento abbiamo uno studio di prefattibilità, non appena avremo uno studio di fattibilità avremo contezza anche dei costi e da lì dovremo partire per realizzare in pochissimo tempo questa che è una grande opportunità per Chieti e per l'Abruzzo.